Quattro anni sul migliotto, otto in prima e una in seconda, corsa molto aperta, malahuma del ronco, la novità, un rogallo jet che viene dai jet, dai toniatti, ma corsa d'averso ma sbagliato, poi seguito molto anche un rica S numero uno, mezzo meccanica in movimento, in nove e siamo a circa duecento metri prima dello stacco, allineamento che va a completarsi, otto in prima, una in seconda fila, allineamento completato. Come da copione la UEFA jet la spinge la macchina e impegna un rica S per il comando all'argoma del ronco, rinviene alla grande ubertosa jet, passa la jet di Gallo e siamo al completamento del lancio in tredici e quattro, cerca spazio Merola e lo tiene a metà della piegata e ora lunga fila in teana al completamento della prima curva. Cavalli davanti alle tribuni, quattrocento violenti in ventotto e mezzo e fa per il momento selezione, lontane il numero sette di Urogallo, galoppa anche il nove di Usengo jet e va sempre via alla natura sostenuta la leader, quarantadue e tre da uno dieci e mezzo e non ammette interferenza sgrana decisamente il gruppo, la UEFA jet, completamento del mezzo miglio iniziale, mezzo miglio gettonato in cinquantotto e due quindici e nove di frazione e ora riduce l'andatura, si accorciano le distanze dei ritardatari con la leva di Minopoli che prende la via del largo e punta in avanti ma viene anticipata da Ulrica S, chilometro chiuso in tredici e nove, passa sul velluto Ulrica S ma Uma non la perde di vista, i cavali A affrontano la curva finale con Ulrica S e Uma in pole position, sono le due Ferrari di lette che abbiamo visto prima, arriva allunga nuovamente Ulrica S e ne prende una e mezza determinante, retta d'arrivo Ulrica S che è ancora a buon margine sulla leva di Minopoli che si deve accontentare, Ulrica S lomino così dopo la bella vittoria erede al Cirigliano viene via la grande Urogallo Jet che ha recuperato ma per Urogallo non c'è tempo per prendere la terza ma la quarta moneta perché UEFA è ancora a buona terza chapeau, uno cinquantasette e tre per l'omino, vestito a festa nonostante la domenica e il sabato ieri ancora il vestito di festa, con questa Ulrica S e Vincenzo Luongo tre euro in chiusura, la Uma fa quel che può ma ha trovato veramente una cavalla in edizione straordinaria alla grande da seguire questo Urogallo, UEFA fa quel che può, si scatena ma tutto sommato e ancora ottima testa, ottima terza con il galletto hamburghese insulchi, molto ruspante il galletto